Nubifraggio da segnalare nella città di Milano a partire dalla notte scorsa e ancora ora, mentre qui a Roma come potete vedere c'è un sole che spacca le pietre, fa un caldo pazzesco, invece a Milano purtroppo questo nubifraggio sta provocando non pochi danni, non pochi disagi alla circolazione e non poche difficoltà a livello concreto e non astratto. Scattinati allagati, sottopassi allagati, circolazione bloccata, pali divelti e chi più ne ha più ne metta. Una situazione dunque drammaticamente reale, cruda e schifosamente negativa. Questo è il mio parere, questa è la mia opinione. Speriamo che si fermi il prima possibile questo nubifraggio che non sta dando tregua proprio alla città di Milano. Vi ricordo che, un bello, vi informo che purtroppo il fiume Seveso sarebbe vicino alla esondazione. Vi ringrazio per l'ascolto, gentili utenti di YouTube. Iscrivetevi se vi va, commentate. Un cordiale salutone a voi dal vostro Leandro Arias, dal vostro narratore italiano di YouTube Italia. Grazie. Grazie.